La nuova Espace prevede di serie un kit per il gonfiaggio e la riparazione dei pneumatici. Il kit degli attrezzi è situato sotto il vano piedi passeggero di destra della seconda fila. Non contiene alcun cric. Una ruota di scorta di tipo piatto è prevista come optional ed è situata sotto al veicolo. Dal bagagliaio e per i veicoli dotati di un amplificatore Bose allentare le tre viti di fissaggio e spostare l'amplificatore per accedere al coperchio. Sollevare il coperchio ed estrarre l'otturatore. Utilizzare esclusivamente la chiave della ruota per spiegare il cavo di ritegno. Dalla parte esterna del veicolo mantenere la ruota in posizione verticale e passare il cavo e il componente attraverso il cerchio per liberare la ruota. La scatola fusibili a relè abitacolo è situata sul lato sinistro del cruscotto. Per accedervi, rimuovere il coperchio di accesso alla scatola dei fusibili.